Buongiorno, ben trovati. Venerdì 3 marzo 2017, appuntamento con la nostra rassegna stampa, oggi si ricorda Santa Cunegonda, apriamo la nostra rassegna del venerdì, come sempre con le prime pagine dei giornali, partiamo dai quotidiani abruzzesi oggi in edicola, dalle quattro edizioni del centro che portano comunque un titolo principale uguale per tutte le edizioni, ovvero quello della manifestazione ieri a Roma, la rabbia dell'Abruzzo andata in scena a Roma, i sindaci manifestano alla Camera più aiuti per sisma e maltempo. Vedete la foto con i manifestanti, con tanti primi cittadini e tanti abitanti della nostra regione, tanti residenti della nostra regione, ieri a manifestare a Roma. Vediamo gli altri titoli, in questo caso l'edizione di Pescara, si parla del racconto shock di una 21enne massacrata dal mio ragazzo, c'è questa testimonianza drammatica di questa ragazza. Poi ancora cronaca Pescara, a spasso con la pistola e con il colpo in canna, arrestato un 31enne dai carabinieri, sempre nel capologo adriatico. Poi si parla dell'inchiesta della regione per gli appalti, D'Alfonso va all'attacco e dice corruzione, ho aiutato un comune, lo farei ancora. Poi arriva la graduatoria per quanto riguarda le nuove farmacie nella nostra regione, ne sorgeranno 85, ma c'è il rischio ricorsi. E poi in basso torniamo a parlare della tragedia dello scorso 18 gennaio a Rigopiano, perché sul caso Feniello scatta l'esposto, dato per vivo ed estratto morto, la famiglia vuole chiarezza e ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. E poi un titolo che invece riguarda lo sport, il calcio, il Pescara, perché domani i Biancazzurri giocheranno in anticipo alle 18, Ammarassi con la Sampdoria e Zeman taglierà un traguardo davvero prestigioso, quello delle mille panchine. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro, siamo a quella di Chieti. Il titolo ovviamente principale resta sempre quello sulla manifestazione di Roma. Vediamo le altre notizie che riguardano in questo caso Chieti e Chieti provincia, comune di Chieti, le pagelle dei consiglieri, primi di Paolo ed Argenio. E poi l'università, nuovo rettore e stupia il sesto candidato in corsa. E poi parliamo dell'omicidio di Vasto, è partito il processo ieri a Lanciano in Corte d'Assise, udienza che è durata poco e che è stata aggiornata al 10 marzo. Di Lello prova a risarcire la famiglia di Lisa, pochi 350 mila euro. Andiamo alla prima pagina del centro di Teramo, anche in questo caso oltre ai titoli che ritroviamo nelle altre edizioni. Vediamo altri argomenti trattati all'interno del giornale. Pineto, Baruffa, l'Assemblea della protezione civile è accaduto nella cittadina adriatica. E ad Alba Adriatica invece minaccia all'inquilina per riavere l'alloggio. E poi, case, la domanda non decolla. Uno studio rivela Teramo ultimo fra i capoluoghi abruzzesi. E poi il calcio, perché Ugo Lotti, parliamo del Teramo calcio, in questo caso sarà confermato, lo ha detto il padron Campitelli, se porterà, condurrà alla salvezza la formazione bianco-rossa. E chiudiamo con l'edizione dell'Aquila, sempre dalle pagine del centro. Biondi rompe gli indugi, basta politica sorpassata. Si parla ovviamente delle amministrative che si terranno nel capoluogo di regione per la nomina, l'elezione del nuovo sindaco. Dunque si parla dei vari schieramenti e di quelli che sono i pensieri dei candidati. E poi, cambiando argomento, parlando di cronaca, ci si sposta nella Marsica a Trasacco. In particolare spacciatore dei ragazzini preso per la quarta volta. E poi, ancora cronaca fra l'Aquila ed Avezzano, blitz delle forze dell'ordine, arresti nelle case del piacere, donne e tranza sorpresi dalla polizia, clienti identificati. E poi, guardia di finanza Roccaraso, falsi maestri di sci scoperti sulle piste. Prima pagina dell'edizione Abruzzo, del messaggero, anche in questo caso si parla della marcia di ieri a Roma. 2000 in marcia al grido di aiutateci, la protesta degli abruzzesi a Roma, abbandonati dopo neve, frane e terremoto. Vedete la foto con i tanti manifestanti che sono arrivati ieri dall'Abruzzo nella capitale. E poi, il processo per l'omicidio di Vasto, di Lello comprò quella pistola per togliersi la vita. Vasto, Fabio piange all'apertura del processo, la difesa non voleva uccidere Italo De Lisa. E poi vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, anche in questo caso ovviamente tutti i titoli riguardano la manifestazione di ieri, con tutto l'Abruzzo a manifestare proprio nella capitale per chiedere maggiori fondi dopo il maltempo, il terremoto e le frane che ancora interessano parte della nostra regione. Allora possiamo lasciare le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. E andiamo a vedere invece, come di consueto, nella rassegna stampa nazionale, quelli che sono i titoli dei quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dal quotidiano La Stampa, assedio a Renzi, primarie in forse, mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle contro il Ministro dello Sport. In questo caso Franceschini e i suoi pronti a chiedere il rinvio del voto al Fano, dice il Governo, tiene, e poi Verdini condannato per il crack del credito cooperativo. E poi Napoli riabbraccia la città della scienza, viaggio nel museo interattivo costruito dopo l'incendio dalla stampa di Torino al quotidiano avvenire, mentre l'Unione Europea litiga, c'è chi assiste e salva, corridoio umanitario, c'è i per malati che arrivano dalla Siria. E poi il giornale, Papa Renzi e caccia all'uomo, nuove accuse, da lui pressioni e ricatti, Giglio Magico ha cerchiato, lotti, traballa, bancarotta e truffa, Verdini condannato a nove anni. Il quotidiano La Repubblica, pressioni dal padre di Renzi, oggi per lui interrogatorio a Roma. E poi India, la ragazza della pace, rompe il tabù sul Pakistan, notizia che riguarda ovviamente la politica estera. Il fatto quotidiano, così lotti e compagni mi avvertirono su indagini e cimici in Consip, il verbale dell'amministratore delegato Marroni sulla soffiata, confermato dal Renziano Vannoni. E poi caos iscritti, nel PD ho comprato 130 tessere con post pay che c'è di male. Il politico, un politico di Castellamare, dice, i miei elettori non sanno usare il personal computer. Il gazzettino di Venezia, caso Consip, spunta la pista dei soldi. E poi in alto Italia condannata, non difese, famiglia dal padre violento. E siamo dopo il gazzettino all'unità, doccia fredda, sul MDP, il nuovo partito nato dalla scissione con il partito democratico. E dunque ci sono ovviamente problemi, polemiche nel centro-sinistra. E poi Consip, lotti, totalmente estraneo. Oggi interrogato Tiziano Renzi, il papà dell'ex premier. Ed ecco qui l'arbitro del carriere, il resto del Carlino. Marroni, numero uno di Consip, dice, Russo, mi disse che la mia carriera dipendeva da Tiziano Renzi. E siamo al libero. Renzi deve dirci due o tre cose. Questo è il titolo del quotidiano vicino al centro-destra. E poi il manifesto, la festa del papà. Si parla in chiave, ovviamente, un po' ironica, come sempre fa il manifesto, con questi titoli un po' di effetto particolari. Sull'inchiesta Consip. Siamo al mattino. Il faccendiere a Romeo, lui ha gradito per i carabinieri russo, si riferisce a Tiziano Renzi, lotti e Matteo. Campagna vergognosa. E poi anche sul mattino ritroviamo la notizia di Tesseropoli. Il PD invia i nomi ai PM. Siamo al messaggero. Caso Romeo, la pista dei soldi. Nelle intercettazioni spuntano i ricatti per gli appalti di Consip e di presunti pagamenti. Gli investigatori, riferimenti a Tiziano Renzi. La difesa, falsità. Oggi ci sarà l'interrogatorio. La Gazzetta del Mezzogiorno, le carte contro Renzi. Padre, oggi sarà interrogato dai magistrati. Nulla da nascondere. L'ex premier a Taranto e Castellaneta a Bari. Gioca a calcetto. E poi il secolo XIX. Verdini, nuova spina per Renzi. Consip, mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle all'Otti. Cuperlo al Ministro. Fai un passo indietro. Il Tempo. Altro giornale di Roma. Il grande blef degli sgomberi. Si parla di affittopoli. In questo caso il Campidoglio si arrende. Non ci sono né uomini né risorse per eseguirli. Intanto la Giunta blocca sfratti e rimborsi. La rete boccia la Raggi che perde 25 punti. E poi sul Tempo di Roma c'è questo reportage su Rigopiano. Il luogo della tragedia dello scorso 18 gennaio. Vediamo il sommario di questo reportage del Tempo. Siamo saliti con i parenti delle vittime nell'hotel della tragedia. E a Roma sfilano i terremotati ancora in attesa di fondi ed aiuti. Quotidiano La Verità va in pezzi il sistema Renzi. Da IPM una mazzata al giorno. E poi a centropagina rischio nuovi tagli per 2 milioni di pensioni. Il sole 24 ore parla invece con un titolo in alto del boom a Wall Street della Snatchpet che si presenta con un più 44%. Chiudiamo dunque l'edicola nazionale proprio con il quotidiano economico e finanziario. Il sole 24 ore possiamo tornare a questo punto sui quotidiani di casa nostra per andare a vedere quelle che sono ovviamente le pagine interne del quotidiano Il Centro. Partiamo proprio dalle notizie che riguardano la manifestazione che c'è stata ieri a Roma. Sisma e maltempo. La rabbia dell'Abruzzo arriva in Parlamento in 1800 fino a Montecitorio per chiedere la modifica del decreto terremoto lungo corteo con sindaci e cittadini arrivati in bus dalle quattro province. E poi in basso imprese agricole devastate a Teramo danni per centinaia di migliaia di euro. E poi il Governo promette aiuti. Continuiamo a incalzare incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario De Micheli. C'è un'apertura su sospensione di tasse e taglia ai comuni. Brucchi e Di Stefano dicono cauto ottimismo. Sindaco di Teramo e Presidente della provincia. Andiamo ancora avanti. Sempre sulla manifestazione di ieri a Roma. Sisma e maltempo. Vedete il grido dei sindaci. Rischiamo il dissesto di primio. Primo cittadino di Chieti minaccia subito i fondi. Oh, mi dimetto. Danni per un milione e mezzo. Ma non ho un soldo. Questa testimonianza del sindaco di Casalanguida, Luca Conti, uno dei tantissimi primi cittadini presenti ieri a Roma. E ora la partita si gioca sugli emendamenti per cambiare il decreto. Allora noi sulla marcia degli abruzzesi ieri a Roma possiamo andare a vedere il primo servizio. Ma la cosa più importante non è tanto quello che abbiamo detto noi. La cosa più importante è la vostra presenza qui. Perché questa è quella che fa veramente chiamare la cittadina e la percezione di un problema che esiste. Guardate, io ho detto più volte anche alle tv un aspetto importante. Il nostro compito è quello di raccogliere quello che viene dal territorio. Il nostro compito è quello di rappresentare una comunità. Il nostro compito è quello di rappresentare una comunità, la comunità terramana in questo caso, e di incanalarla in una proposta. Noi la proposta l'abbiamo fatta, le richieste le abbiamo fatte. Noi siamo stati la vostra staffetta, siamo venuti qui e le abbiamo consegnate. Ora tocca a qualcun altro portarle avanti. Noi continueremo a lavorare, naturalmente non ci fermeremo, stando attenti. Abbiamo ricevuto delle assicurazioni, abbiamo fatto tante richieste, alcune sicuramente saranno accolte, su altre si sta studiando. Vedremo fino all'ultimo giorno di approvazione finale, di conversione finale del decreto in legge, quante di queste proposte saranno accolte. Però io dico che oggi è solo l'inizio, perché le risposte che ci hanno dato è soltanto una disponibilità a valutare quello che noi abbiamo chiesto. La disponibilità in questo momento ci basta, ma non molleremo e non toglieremo l'attenzione dal governo finché il decreto uscirà da quelle aule. Abbiamo solo iniziato, abbiamo solo iniziato e noi la prossima settimana saremo qui a Roma, perché io ho chiesto un tavolo permanente con noi amministratori, con il governo e con i parlamentari, perché ci fidiamo, ma fidarsi è bene, lo sappiamo qual è il proverbio. Noi siamo, noi oggi la De Micheli, devo dire, che ci ha dato delle rassicurazioni, verificheremo puntualmente se quello che ci è stato detto verrà attuato. Oggi è stata una giornata memorabile, ma è solo l'inizio, perché la nostra città non può morire, il nostro territorio non può morire e noi tutti insieme faremo in modo che questo non accadrà. Grazie per essere stati qui, grazie, forza Teramo! Questo è il servizio che abbiamo realizzato ieri a Roma nel corso della manifestazione. Andiamo avanti, sempre dalle pagine del centro, cambiando argomento. L'inchiesta dell'Aquila, D'Alfonso, corruzione, ho aiutato un comune e lo rifarei ancora. Il governatore spiega per la prima volta il caso di Penne, ho più volte avuto quel comportamento per il bene pubblico. Vedremo il servizio con le dichiarazioni del Presidente della Regione. Andiamo ancora avanti per arrivare alle pagine che riguardano la cronaca della nostra Regione. Il concorso dei cinque anni, nuove farmacie, scattano le assegnazioni. Ecco la graduatoria degli aspiranti alle 85 sedi in 56 comuni. Ma l'ordine dei farmacisti avvisa vita dura e c'è il rischio dei ricorsi. Vediamo da questo specchietto dove apriranno le nuove farmacie, un po' in diversi paesi, in particolare 4 a Vasto, 3 a Teramo, 2 a Silvi, 2 ad Albadriatica, 4 a Pescara, 5 a Montesilvano, 3 a Spoltore, 4 ad Avezzano, 4 all'Aquila e poi altre, 2 a Sulmona, altre in comuni più piccoli della nostra Regione. Sono 85 ovviamente i vincitori del concorso. E poi in basso il presidente di Federfarma, Zenobi, dice le zone più isolate resteranno però senza. Andiamo avanti, ancora cronache dalla nostra provincia. In questo caso partiamo da Pescara con questa testimonianza di botte, massacrata di botte a 21 anni. Questa terribile testimonianza di questa giovane, dopo nove mesi di inferno, Maria ha denunciato il fidanzato e dice ora tocca alla giustizia. Ho visto la follia nei suoi occhi, non era più lui, con il telefonino mi ha aperto la testa, con una sberla mi ha spaccato la bocca, sangue dappertutto. È stato un film horror questa la drammatica testimonianza di questa ragazza. Mi urlava che mi avrebbe ucciso, poi mi ha portato all'ospedale, mi ha fatto dire che erano stati gli zingari ad aggredirmi, rideva e mi baciava. Non voglio più vederlo, questa ragazza che ha avuto il coraggio di denunciare il fidanzato. Andiamo ancora avanti, sempre su questo argomento. Aggredita almeno una volta il 33,5% delle abruzziesi. Varato il progetto Sibilla coinvolge i comuni di Pescara, Chieti, L'Aquila, Vasto e i centri. Antiviolenza, obiettivo accompagnare le donne nella rinascita. E poi in alto a pianella e penne, aperti due sportelli antistalking e bullismo. E poi in piazza Salotto a Pescara, si parla in questo caso però di prevenzione di tumore al seno, e sarà presente la testimonial. Maria Grazia Cucinotta. E poi in basso, 40 anni fa, le madri di Plaza De Maio, a Torre dei Passeri, teatro e omaggio alla fondatrice Villa Flor a Pescara. Ci sarà un'altra manifestazione, sempre per ricordare queste madri coraggio. Andiamo ancora avanti, sempre dalla cronaca, dalle pagine del centro di Pescara. Servizio pubblico interrotto, psicoterapia ultimatum di Fortunato. Il direttore sanitario intima, la responsabile del centro di salute mentale, di ripristinare le sedute settimanali ai pazienti. E poi non è vero che queste cure costano di più. Gli assistiti del centro al presidente di percorsi di Caro, i medici sono pagati per fare il loro lavoro. Lavoro. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Il piano per la Filanda stoppa al Palazzo di Cinque Piani, nel parco di Via Pasolini. La Commissione approva un emendamento per salvare l'area verde dal cemento. Ora il voto in Consiglio Comunale, ma il progetto per ricostruire l'ex opificio rischia di saltare. E poi l'ite durante la riunione di maggioranza, PD diviso sulle case di Via Monte Faito. E poi il Comune paghi 8 milioni per il Tribunale, spuntano debiti per i lavori svolti negli anni 90. D'Alfonsi e Alessandrini si rivolgono a Roma. E poi in basso, riscossione dei tributi, l'assessore ai tributi del Comune di Pescara di Odati, replica ai Cinque Stelle, la proroga alla Soget era inevitabile, rispettata la legge. E poi intervento sulla spiaggia libera di Pescara da parte della Polizia Municipale, rimosse 10 barche abbandonate. Andiamo ancora avanti, la tragedia di Rigopiano, abbiamo visto questo titolo, il richiamo. In prima pagina, Feniello ucciso due volte, arriva l'esposto in procura. Il legale della famiglia del giovane, prima dato per vivo e poi estratto morto, chiede chiarezza sulle dichiarazioni di prefetto, funzionaria e sottosegretaria. E poi i parenti sul luogo della valanga, via libera, recupero delle prime macchine, c'è anche il sopravvissuto, parete, il cuoco pescarese. Cronaca ancora da Pescara, girava con la pistola in tasca ed il colpo in canna arrestato, il giovane passeggiava in via Colle di Mezzo, aveva anche un coltello a serramanico e una dose di crack. Nella sua casa poi sono stati trovati fucili da caccia legali e altre quattro armi, non risultate invece in regola. E poi invece, cambiando decisamente argomento, si parla a Pescara, ieri la presentazione del Festival del Cioccolato, tre giorni di festa, dal 2 al 5 marzo. Andiamo a vedere dunque il servizio di presentazione di questa iniziativa. Una manifestazione davvero molto golosa, il caso di Dio. Certo, sarà un fine settimana veramente goloso e colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo evento. Io amo definirli a metà strada tra artigiani e artisti perché riescono veramente a creare delle vere e proprie opere d'arte. E li ringrazio tantissimo perché con la loro iniziativa porteranno a Pescara tantissima gente. Ne trarranno sicuramente conseguenze i bar, i ristoranti, le attività commerciali e lo shopping. Quindi veramente bravi a questi ragazzi. Ci saranno tante iniziative all'interno di questa kermesse? Sì, sì, tantissime. Quindi vi aspettiamo in Piazza Salotto, dentro la fabbrica del cioccolato, la ciocofabbrica, la prima fabbrica del cioccolato culturale itinerante in Europa. Questo è bene, dobbiamo spiegarlo bene. Vi aspettiamo in Piazza Salotto, ci saranno numerosi laboratori per bambini, con alcuni chef pasticceri e cioccolatieri che abbiamo portato a Pescara. Io personalmente insieme all'artigiano perugino, al maestro Fausto Ilcolani, spiegheremo tutta la filiera del cacao, dalla tostatura della fava di cacao fino alla realizzazione della cioccolata. E vi insegneremo anche a voi a farlo. Farete anche un bacio perugino in diretta? Lo facciamo domenica, anzi vi aspettiamo perché dopo vi insegneremo e lo faremo fare anche a voi. Quindi non mancate. Andiamo avanti, parliamo di sanità, sempre dalle pagine di Pescara del centro. A fondo pagina c'è questo articolo che riguarda l'incarico per il primario del pronto soccorso Albani, nominato infatti referente sanitario per le emergenze. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara. Francavilla, la paura del sisma, fa crescere il mercato della casa, aumentano le richieste di appartamenti in città e sul litorale, secondo le rilevazioni della Domus. E poi, ancora Francavilla, rinviata la causa contro l'Aca per il mare sporco. Ci spostiamo a San Giovanni Teatino, i democratici bocciano la pista ciclabile, e non piace il tracciato di San Buceto, sede stradale troppo stretta. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano, l'omicidio in Venezuela, assassinato per l'eredità. La morte di Aglio sconvolge Montesilvano, l'imprenditore freddato in auto a Maracaibo dai due killer mandati dal figlio e proprietario dal 2001 di un attico in città. E poi, accoglienza ai migranti e scontro, centrodestra, diktat del gruppo Montesilvano 2019 al sindaco Maragno. In basso, bando comunale, negozi storici, domande fino al 30 aprile. Poi, dal lunedì, servizio porta a porta nel borgo, consegnato il kit per la differenziata. Siamo alla pagina, ancora, dell'area metropolitana di Pescara, spoltore, villacerbo promossa, residenza monumentale. E poi, ancora a Montesilvano, raduno su spiritualità e naturopatia. In basso, Pianella, Modavi al via corso per volontari, sempre a Pianella, Gianzante, lascia la maggioranza di missioni irrevocabili della consigliera che passa così all'opposizione. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, Brioni, impiegata trasferita, il giudice la riporta a casa, Penne, sentenza a favore di una lavoratrice. E poi, chiesto un vertice sul futuro della casa sartoriale, incontro al Ministero, ancora, nessuna data. Manoppello, in programma un corso di micologia, un mese di lezioni per avere il tesserino. E poi, tornando a Penne, dunque, nell'area Vestina, palo pericolante sulle abitazioni, con la nevicata di gennaio. L'asta si è inclinata e la Telecom non interviene. Infine, a Torre dei Passeri, via il passaggio a livello, partono i lavori per il sottopasso. Allora, siamo arrivati alla pagina di Chieti del centro, ma dobbiamo fermarci per qualche istante e andare a vedere anche le previsioni del tempo. Poi torneremo, come sempre, in studio per la seconda parte di mattino 6. Seconda parte di mattino 6. Ripartiamo dalle pagine di Chieti, Chieti provincia del centro. Omicidio e processo di Lello offre 350 mila euro, vuole risarcire con i soldi dell'assicurazione per la morte di Roberta. I delisa rispondono. Sono pochi ieri. C'è stata la prima udienza del processo in Corte d'Assise a Lanciano. Udienza durata solo 15 minuti. Tutto rinviato al 10 marzo. La difesa chiede uno sconto, pena e perizia psichiatrica per il fornaio imputato. L'accusa ha in mano due prove importanti. La moglie di Fabio non era incinta e tra vittima e omicida non ci fu scambio di battute prima dei tre colpi di pistola. E poi, vediamo quest'altro articolo. L'omicida rimane a testa bassa in aula. Mai uno sguardo al papà di Italo. E poi in basso, gas di Poggio Fiorito. Il Tar dice sì, il Tribunale Amministrativo del Lazio respinge il ricorso dei 14 comuni. E poi ancora a Chieti. Questa volta si parla di Università. Rettore La Corsa diventa a 6. C'è anche stupia tra le emissioni contenute nel programma del professore di Psicologia, ricerca didattica e potenziamento dell'Università Telematica. E poi a Villamagna, addio a Donofrio, il signore del vino e dell'olio. In basso, redditi ISEE, segreteria dell'Università in Tilt. Giornata nera al campus. L'organizzazione 360 gradi denuncia il disservizio telematico. E negli uffici arriva la finanza. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro. Le stanze del piacere, sesso nel bed and breakfast, due arresti, donne transessuali sorpresi dalla polizia, seconda casa attivata ad Avezzano. E poi in basso, in pista, quattro falsi maestri di sci, controlli della Guardia di Finanza Roccaraso, tenevano lezioni sulla neve senza avere la necessaria qualifica. Pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. Dopo il terremoto, la città ha perso attrattiva. Non decolla la domanda di case. Uno studio rivela che a Teramo il mercato immobiliare cresce meno che altrove. Nonostante il sisma e i prezzi bassi. Rapagnà, gli investitori sono attratti da piazze dove circola più denaro. E poi protezione civile. Baruffa, Pineto, impedito l'ingresso all'assemblea ad alcuni soci. interviene la polizia. Siamo arrivati alle pagine dello spettacolo e dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del messaggero, ovviamente nell'inserto Abruzzo. Abbiamo già visto in apertura di questo appuntamento con Mattino 6 la prima pagina dell'inserto del quotidiano romano. Ora, tra qualche istante, andremo a vedere anche le pagine interne. Vi proporremo anche il servizio sulla conferenza stampa che si è tenuta ieri a Pescara nella sala Filomena degli Castelli di Viale Bovio della Regione del presidente Luciano D'Alfonso sulla vicenda dell'inchiesta dell'Aquila sugli appalti. Intanto partiamo dalla seconda pagina però dell'inserto Abruzzo del messaggero. 2.000 in marcia, non ci abbandonate. Si torna sulla manifestazione di ieri a Roma. Vedete la foto, in primo piano il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, e il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino. In basso, proprio i due esponenti politici, dicono risposte convincenti. E poi farmacie private. Ecco gli 85 permessi. Abbiamo ritrovato questa notizia anche sul messaggero dopo averla letta dal quotidiano Il Centro. Partiamo con le cronache delle province. Da Pescara, io sotto accusa per aver favorito l'interesse pubblico. Ecco l'articolo di cui vi parlavo. Luciano D'Alfonso rompe il silenzio sull'inchiesta che lo vede indagato per corruzione, istigazione alla corruzione e abuso. Il quadro accusatorio non cambia per i PM. Sono atti contrari ai doveri. Massimo riservo sui fatti che tra luglio e novembre del 2015 hanno fatto scattare. Le indagini nel filone pennese gli inquirenti contestano pressioni sulle belle arti per la vendita di un negozio. Ma noi andiamo ad ascoltare il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Io mi sono mosso per aiutare un comune che, come dice Monteschiè, è nato con Dio, che aveva bisogno di alienare un bene comunale per rientrare nei termini del patto di stabilità e non subire sanzioni finanziarie. Una esigenza, quella del comune di Penne, che è stata fortemente spinta anche dal revisore dei conti comunali. Pervengono qui degli amministratori. Io mi attivo come faccio sempre, come ho fatto cento volte prima e come sono convinto che farò cento volte dopo. Non mi meraviglio dell'esigenza di rilettura gius penalistica perché c'è tutta e prevista all'ordinamento. Sono qui a dare la mia collaborazione in qualsiasi modalità. Però voglio che la cittadinanza sappia di cosa è composta la vicenda. Un fondaco ad uso commerciale portato avanti da tempo, oggetto di una delibera di alienazione comunale che, per via dell'esigenza di un parere del MIBACT, Ministero dei Beni Culturali, c'era bisogno di questo visto per poter procedere alla vendita e all'incasso del ricavato da parte del comune per rispettare il patto di stabilità. La rottura delle leggi e delle regole, se manca l'interesse privato, diciamo non mi preoccupa e non mi infastidisce. Non mi sento un inseguito, non mi sento un perseguitato, però sono fortemente animato da una volontà di perseguire l'interesse pubblico. Quando questo c'è, io sono lì ad attivarmi. E ripeto, non sono infastidito per l'attività di rilettura. Spero che la documentalità pervenga tutta per avere velocemente chiarezza definitiva. Perché quando c'è un dubbio, quando c'è un'esigenza, è bene che questo lo si faccia nei confronti di chiunque. Anche nei confronti del Presidente della Regione, che più volte è destinatario di richieste di sindaci, di presidi scolastici, di altre autorità. Io sto per mettere in campo un'attività corposa di verifica sismica delle scuole. Anche questa, diciamo, sospende qualche normale procedura amministrativa. Ma prevale l'interesse pubblico della verifica sismica. Con questo spirito ho sempre fatto il mio dovere. Parliamo di università. Anche dalle pagine del messaggero, nuovo rettore, vedete a fondo pagina, anche Stupia e Capasso accettano la sfida. E poi, preso con il crack, la beretta carica, arrestato 31enne dei carabinieri a Pescara. E poi, fibra ottica e acquedotto, ingorgo per il doppio cantiere, su via Firenze. Andiamo più in basso. Caccia al testimonio all'out village di Città Sant'Angelo, mentre nel weekend la fabbrica del cioccolato più dolce in Piazza della Rinascita abbiamo visto il servizio nella prima parte della nostra rassegna stampa. E poi in basso la base al Florian, classica al massimo. Gli appuntamenti con la danza ed il teatro nel capoluogo adriatico. E poi il viaggio del dolore a Rigopiano. I parenti delle vittime della valanga per la prima volta fra le macerie dell'albergo in cui sono morte 29 persone, lacrime e fiori. Fa ancora più male vedere dove l'hotel è stato costruito. Dicono, forse tutto ciò si poteva evitare. E poi i due tralicci che bloccano il nuovo ponte sul Saline. L'apertura ritardata dalle linee elettriche e la provincia chiede all'Enel di accelerare lo spostamento. E poi in basso la cronaca massaggia luci rosse un telefonino manda in cella il titolare del centro. E poi circonvenzione nei guai un avvocato pescarese per un anziano che è stato raggirato. L'Aquila, Cotugno, riparte la mobilitazione contro i doppi turni pomeridiani. Nuovo hastag, stanchi da morire, protesta al via dal prossimo 10 marzo per gli studenti. E poi Movimento 5 Stelle, ecco i candidati online, si parla delle amministrative in città. E poi Biondi si parte, basta politica sorpassata, parla anche un altro dei possibili candidati, tra l'altro ex sindaco di Villa Sant'Angelo. E poi Comune, ci sono i 12 milioni per il bilancio di previsione. E poi la cronaca scoperta altra casa d'appuntamenti, vedete nella pagina successiva, gli arresti domiciliari, due settantenni aquilani con l'accusa di aver trasformato un noto bed and breakfast in un bordello. Le indagini hanno evidenziato come ciascuna prostituta o trans doveva versare ai due accusati la cifra di 50 euro al giorno. E poi a Campotosto, riempimento del lago la posizione dell'Enel, poi Sisma, progetto pilota dell'ANA per realizzare strutture. Andiamo a centropagina, sanità, troppi tagli a personale, liste d'attesa record per quanto riguarda l'Aquila. E poi la politica dia risposte sull'Accord Fenix. Roberto Tinari, consigliere di Forza Italia, dice che era stata presentata quale soluzione di tutti i mali. E poi presentato il libro di Roberto Cavallo, Pulisci e Corri, si parla di tematiche ambientali. E siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, Ferrovie di Pangrazio infuriato, convoca per oggi da Alessandro. Intanto il malfunzionamento di un passaggio a livello, blocca tutta la linea e basta far disporre la cancellazione di alcuni treni. Restiamo nella Marsica, Istituto per Geometri ricorda al valo Pirono, sempre ad Avezzano, prostituzione in pieno centro. Scoperta a casa a Lucirosse che era collegata con un'altra che si trova all'Aquila. Sulmona, crisi del commercio, appello al sindaco Casini mentre a Celano vendeva droga a studenti. Arrestato in fondo, fondopagina, maestri da sci abusivi finanzieri sulle piste, in totale 5 le persone tra cui una donna, sottoposte a verifica provenienti da Marche, Campania e Abruzzo e poi sul Mona, città e frazioni sommerse dai rifiuti. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, l'eredità di nevicate pioggia, danni per decine, per 10 milioni, scusate, di euro. Si allunga la lista degli interventi da fare, frane nelle strade, muri crollati e dissesto sotto via Ciampoli, nuova emergenza, si è aperta una voragine di 8 metri e poi la cittadella della cultura prende forma, il via ai lavori, vedete nella foto l'ex caserma bucciante e poi andiamo avanti, scrutatori, la protesta da Raimondi, presentata però una bozza di regolamento e poi impianti sportivi pugno di ferro del comune a Chieti mentre concerto degli Africa Unite questa sera allo Stantish di Chietiscalo. Andiamo ancora avanti, pagina di Lanciano Vastortona, il PM, prove evidenti, la difesa, Fabio compro la pistola per uccidersi, stiamo parlando dell'omicidio dell'ISA, il via al processo per Di Lello, l'uomo in lacrime, chiesti termini a difesa, si riprende il 10 marzo, familiari in tribunale, il procuratore dice delitto premeditato, il Papa di Italo, fiducia nei magistrati illegali del panettiere, non era in sé. E poi Lanciano, ZTL senza indicatori luminosi e caos nella città frentana, mentre ad Ortona il comune gestirà il cinema Zambra e a Vasto, radiologia senza medici, faremo il bando della mobilità. Siamo a Terramo, Frane, sempre più i paesi isolati, servono le case per gli sfollati, la situazione sta peggiorando ancora a Campli, Civitella del Tronto ed Atri, via libera, la costruzione di un ponte che bypasserà tutti gli smottanenti a ripe di Civitella. E poi, rogo della Ital Pannelli, tre a rischio processo, si tratta di due addetti che eseguivano i lavori di saldatura e il loro manager Val Vibrata, cronaca, minacciato un agente immobiliare. E poi, i vigili del fuoco di Parma tornerò in questi luoghi il vigile del fuoco Emiliano che ha operato a Ponzano di Civitella proprio nei giorni della Frana. E poi, università, bando per 100 borse lavoro, ciascuna vale 1.400 euro. Siamo alla pagina del litorale Terramano, spunta la luna rossa sul porto, la mitica imbarcazione protagonista delle regate mondiali resterà ormeggiata a Giulianova in vista dei futuri impegni, una grande promozione per il nostro scalo dice il sindaco Mastro Mauro e sempre a Giulianova scippata vicepresidente del comitato di quartiere e poi donna cade e si ferisce causa contro il comune. Ad Alba Adriatica mancano gli sponsor salta la nuova rotatoria mentre a Tortoreto furti di computer nelle scuole elementari a Roseto villa comunale e corsa contro il tempo. Siamo arrivati alle pagine dello sport anche del messaggero ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano La Città di Teramo anche in questo caso per vedere quali sono gli argomenti trattati nel giornale oggi in edicola avevamo visto in apertura del nostro appuntamento di oggi la prima pagina del quotidiano La Città andiamo a vedere le pagine interne partiamo da quella della cronaca regionale non mi sento affatto un perseguitato il governatore D'Alfonso interviene sull'inchiesta di penne o solo dice perseguito un interesse pubblico abbiamo ascoltato poco fa le dichiarazioni del governatore della regione e poi l'omicidio di Vasto la procura confermata la premeditazione il 10 marzo processo in assise per Dilello tutti a Roma l'incontro con il governo riaccende le speranze il tavolo con i rappresentanti del MEF riapre la strada per inserire emendamenti al decreto sisma vedete le foto della manifestazione di ieri a Roma fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi invita tutti a non abbassare la guardia poi in basso le reazioni ma tra i sindaci teramani serpeggia il malumore ancora sulla manifestazione di Roma il grido di Teramo risuona tra le vie romane e quasi 2000 teramani presenti ieri al corte romano per chiedere più attenzione alle istituzioni in basso una festa di popolo tra canti e salsicce immancabili tra i manifestanti i prodotti tipici della nostra terra questa è un'altra pagina dedicata con un corredo di foto alla manifestazione di ieri che si è tenuta a Roma hanno partecipato anche delegazioni politiche delle province di Chieti e Pescara oltre a tanti cittadini e siamo alla cronaca di Teramo il Senato rimuove il tappo sull'ex rettorato al termine di una riunione complicata l'Università Vara l'atto per la trasformazione in casa dello studente e poi cronaca ragazzino investito sulle strisce alla rotatoria ovale e poi in basso la tragedia dell'Aisel in scena al Dipò Parozzi all'Istituto Superiore grande successo per lo spettacolo teatrale di David Miccioli Giorgione bloccato dal governatore D'Alfonso delegato a sua insaputa il consigliere regionale dell'NCD dismentisce il passaggio di fatto in maggioranza e poi in tutto l'Abruzzo e emergenza biblioteche la regione riorganizza le norme sulla cultura intanto negli ultimi cinque anni ne sono scomparse 81 e poi oltre l'emergenza sgravi fiscali per chi investe al nucleo industriale l'assessore alle attività produttive Roberto Canzio siamo sempre a Teramo rispolvera un ordine del giorno con la sua proposta del 2012 pubblico redazionale a questa pagina possiamo spostarci sulla successiva Ital Pannelli chiesto il processo per tre ricorderete l'incendio di qualche mese fa stralciata la posizione del titolare nei guai la ditta esterna che lavorava sul tetto e poi la conta dei danni l'assicurazione intanto ha liquidato un maxi risarcimento da 28 milioni di euro per l'impianto e poi andiamo ad Albadriatica minacce e molestie all'agente immobiliare in due rischiano il processo in basso Albadriatica si prepara la bella stagione con nuovi asfalti e poi politica Martinsicuro il PD nei guai primari senza candidati siamo alla pagina di Giulianova e di Mosciano Sant'Angelo partiamo proprio da Mosciano inizia infatti questa sera il nuovo corso per i volontari di protezione civile e poi Giulianova a scuola il sindaco non convince i genitori scetticismo sul rientro a settembre nelle strutture chiuse per inagibilità in basso curi senza palestra lezioni di educazione fisica in classe lavori di manutenzione straordinaria dopo il sopralluogo di provincia e genio civile siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo dalla notaresco però in questo caso dopo le dimissioni di Corradetti lo strappo definitivo con il sindaco l'uscita del consigliere Gattiano potrebbe avviare infatti una crisi politica in basso a Pineto nasce il nuovo movimento politico Pineto 2.0 e invece a Roseto villa comunale chiusa almeno fino all'estate del prossimo anno per lavori in corso siamo arrivati alle pagine della cultura e dello sport prima di vedere lo sport in salsa bianco-rossa ovvero per parlare del terramo andiamo a vedere ripartiamo dal centro per vedere le pagine dello sport che riguardano proprio il centro per parlare soprattutto del Pescara che si sta preparando alla gara di domani in anticipo alle 18 con la Sampdoria sarà una giornata questa una sfida particolare per il tecnico del Pescara Zdenek Zeman che proprio domani a Marassi festeggerà le mille panchine davvero un traguardo incredibile per il tecnico boemo del Pescara e andiamo a vedere proprio le due pagine che riguardano questo traguardo mille volte Zeman da Praga a Pescara il boemo fa ancora scuola con il 433 domani festeggerà il traguardo delle mille panchine al Ferraris come dicevamo qualche istante fa e poi vedete i complimenti e gli auguri di tanti personaggi illustri del nostro calcio Francesco Totti il tecnico pescarese del Sassuolo Eusebio Di Francesco Marco Verratti Marco Sanzovini Marco Capuano e Antonio Balzano giocatori che sono stati tutti alle dipendenze di Zeman ma tornando alla gara di domani a Genova contro la Sampdoria potrebbe esserci qualche novità di formazione rispetto alla gara di domenica scorsa a Verona con il Chievo infatti Castanos potrebbe soffiare il posto a Benali Crescenzi insidia a Biraghi nuovo guaio al ginocchio per Pepe intanto è stato tesserato ufficialmente il 18enne seleganese Coulibaly ma noi sul momento del Pescara andiamo ad ascoltare il giovane Alessandro Vitturini Vitturini dice questa partita di sabato con la Sampdoria è davvero probabilmente l'ultimissima chiamata per il Pescara ma sì non è proprio l'ultimissima chiamata comunque noi dobbiamo cercare di giocare ogni partita adesso come se fossero delle finali come se fosse una finale quindi dare il massimo e cercare di seguire quello che ci chiede il mister in queste settimane che mancano al termine della stagione Vitturini vorrebbe ritagliarsi uno spazio importante in questa squadra hai giocato poco fino ad oggi ma assolutamente sì io cerco di fare sempre il massimo do tutto quello che ho e poi vediamo il mister quello che decide comunque adesso devo cercare di rimettermi perché ho avuto questo piccolo infortunio e si riparte con Zeman come vanno le cose la settimana scorsa i gradoni questa settimana come vi state preparando alla gara di Genova? no ma il mister sa benissimo comunque come stiamo e quello che deve fare quindi sa che non deve caricare eccessivamente e preparare le partite come fa sempre nella sua settimana tipo Vitturini dalla panchina e qualche volta dalla tribuna quando sei stato infortunato che Pescara hai visto in queste ultime settimane? ma io vedo entusiasmo vedo voglia di fare vedo voglia di seguire la voglia di seguire l'allenatore quindi ci sono i presupposti per fare bene in queste ultime partite si parla di questo campionato ma ovviamente lo sguardo è anche rivolto alla prossima stagione al di là di quello che sarà il campionato dove giocherà il Pescara Vitturini è uno di quei giocatori che prossimo anno dovrebbe restare in riva all'Adriatico ma sicuramente è quello che voglio io poi vediamo le scelte della società vedremo le scelte della società ma io sono contento assolutamente di rimanere anche il prossimo anno hai parlato della società chiedo a te anche come ho chiesto a qualche tuo compagno questa vicenda Sebastiani Giannascoli come la state vivendo vi sta creando qualche problema o è una cosa che non entra nello spogliatore no assolutamente non ci sta creando nessun tipo di problema queste sono cose che deve vedere il presidente quindi noi siamo facciamo il nostro lavoro non ci facciamo prendere da queste cose parliamo ancora di calcio di Serie A il Valzer delle panchine a proposito delle mille panchine di Zeman Allegri Sarri e Sosa sarà l'estate dei divorzi probabilmente per alcuni di questi tecnici sì non per Zeman che ha un contratto con il Pescara fino al 30 giugno del 2018 in basso il calcio a 5 e questa sera in campo le abruzzesi di Serie A l'Uparenza e Pescara ultimo esame per assicurarsi il primo posto per quanto riguarda i biancazzurri del presidente Danilo Giannascoli e questa sera in campo anche l'acqua e sapone siamo la Lega Pro Campitelli con l'ottico confermato se riesce a salvare il terra parla il patron della formazione bianco-rossa che dice se l'avessi preso prima probabilmente non saremo in queste condizioni di classifica andiamo ancora avanti per parlare invece dell'Aquila e scendere dunque in Serie D il ribaltone rosso-blu l'Aquila stagione in fumo fraliti ripicche cattiverie tocca a Battistini rilanciare le residuide speranze di promozione in Lega Pro della formazione rosso-blu dopo le dimissioni del tecnico Morgia è stato ingaggiato infatti il 46enne tecnico Romano Battistini che aveva tra l'altro giocato nell'Aquila per due stagioni negli anni 90 in basso Morgia al vetriolo usato e preso in giro ma proprio su quello che sta accadendo in Casal'Aquila andiamo a vedere il servizio aver messo in imbarazzo i miei ragazzi che non sanno più sballottare da una parte dall'altra è un'altra cosa ancora brutta e aver lasciato non quello che leggo sui giornali perché io ho un telefono ci sarà molta gente che mi scrive a cui rispondo a tutti ma mi scrive gente che ha molto apprezzato quello che facevamo ma tantissima gente perché viene fuori tutto invece il marcio e non è venuto fuori il pulito di tanta gente che ha apprezzato quello che si stava facendo di tanta gente silenziosa però di quella che non fa rumore di quella che deve popolare gli stadi di quella che deve venire per riempire quegli stadi di gente per bene di gente per bene di famiglie io per quello ho lottato e per quello sono venuto qua e mi sono appassionato perché questa città molto probabilmente che ha perso un centro di aggregazione che è il centro storico lo do a trovare nello sport nel calcio e io ho lottato per questo e per questo sono uscito sentendomi preso letteralmente per il culo e a 66 anni usato che è la cosa più brutta che mi volesse essere fatta strumentalizzato la mia età perché ancora a 60 anni credo perché c'erano le persone per bene nelle persone pulite e invece li trovo con delle estofanti che comunque c'erano anche quando è successo quello io vengo da campionale di vinti cerco chi viene alle processioni un morgia davvero al vetriolo al suo fianco l'ex direttore sportivo dell'Aquila Alessandro Battisti siamo alla pagina successiva sempre per quanto riguarda lo sport dal centro in alto Amicacci all'assalto della Coppa Italia basket in carrozzina da oggi a Pescara le Final Four con i giuliesi protagonisti e poi la palla canestro di Serie B con due recuperi di campionato con vittorie esterne per Teramo e Campli che passa a Rimini per 81 a 75 il Teramo che vince sul parchè della Vis Nuova Roma per 90 ad 85 andiamo ancora avanti abbiamo però esaurito le pagine dello sport del centro possiamo andare a vedere quelle del messaggero per poi chiudere con la pagina dello sport sul Teramo dalla città Pescara Battimi la Sampdoria l'islandese parliamo di Bikir Bjarna sono ovviamente il doppio ex della sfida di Marassi con i Doriani una stagione da dimenticare o i Biancazzurri sempre nel cuore ricorderete proprio Bikir Bjarna sono protagonista nelle Pescara di qualche stagione fa sono dispiaciuto per il sonero di Oddo ma non me l'aspettavo tornare un giorno ma giocare in Inghilterra è il massimo e poi come dicevamo in precedenza è stato tesserato ufficialmente il giovane centrocampista diciottenne senegalese Coulibaly che già da tempo si allenava con la primavera del Pescara e poi la famiglia Alberti dice grazie ai pescaresi ricorderete la scomparsa di Enrico Alberti qualche giorno fa c'è stata una grande partecipazione grande vicinanza dei tifosi del Pescara e sono arrivati proprio dalla famiglia Alberti i ringraziamenti a tutti i pescaresi e poi il Teramo Lega Pro in basso Camilleri unica novità nel Teramo Antivenezia potrebbe prendere il posto di Altobelli buone notizie sul recupero di Spighi in attacco il tandem Sansovini Barbuti siamo alla seconda pagina dello sport Morgia e Battisti il giorno dei veleni abbiamo ascoltato Morgia e poi palla a mano Farma Più prepara l'assalto ai playoff per quanto riguarda invece il basket Leo Filkem dei Brocco nuovo partner del Roseto mentre in Serie B l'amatori Pescara ha presentato ieri due nuovi acquisti si tratta di Ucci e Valentini in basso calcio a 5 Pescara in trasferta sfida alla Luparense per vincere e difendere il primo posto l'acqua e sapone in casa contro l'isola Ricci sappiamo che non sarà facile dunque chiudiamo anche qui per quanto riguarda le pagine dello sport dal messaggero andiamo a chiudere con la pagina che riguarda lo sport del quotidiano la città ovviamente in chiave Teramo parla l'ex Moreo che emozione tornare al Bonolis l'attaccante del Venezia l'anno scorso in bianco rosso Teramo salvo e noi vittoriosi in campionato magari dice Moreo e poi ritorno mancato a fine estate ho ricevuto tante offerte tra queste c'era anche quella del Teramo e poi come abbiamo visto il doppio obiettivo auguri auguro al diavolo di centrare la salvezza e di continuare a giocare anche l'anno prossimo in Lega Pro approfittiamo di questo specchietto che troviamo sul quotidiano la città per andare a vedere gli impegni del prossimo turno 28esima giornata del Girone B di Lega Pro si giocherà in anticipo domani Modena l'Umezzane gara che interessa e non poco il Teramo visto che i Lombardi e gli Emiliani sono diretti concorrenti della formazione Bianco-Rossa per la salvezza e poi tutte le altre gare che si giocheranno domenica Sud Tirol San Benedettese Teramo Venezia Maceratese Gubbio Bassano Mantova Reggiana Padova Sant'Arcangelo Pordenone Feralpisalo Albinoleffe Ancona Fanu ed il posticipo Emiliano Romagnolo di lunedì sera che al Tardini vedrà di fronte Parma e Forlì e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 3 marzo con la nostra consueta rassegna stampa a mattino 6 tornerà domani puntualmente alle 7 per quanto riguarda il prossimo appuntamento informativo sulla nostra rete vi ricordo come sempre alle 14 la prima edizione del TG6 grazie per averci seguito grazie a Gianni D'Areo in regia appuntamento per la prima edizione del telegiornale alle 14 grazie e buona giornata grazie a Gianni D'Areo grazie a Gianni D'Areo a Gianni D'Areo grazie a Gianni D'Areo grazie a Gianni D'Areo grazie a Gianni D'Areo grazie a Gianni D'Areo